La funzione conta.valori conta i valori agli interni di un intervallo di dati, quindi in poche parole rimangono fuori solo le celle vuote. La logica è simile alla funzione conta.numeri ed infatti devo selezionare l'intervallo di dati che è sempre B2B23. Il risultato stavolta è 20 proprio perché ha contato i 10 numeri più le 10 descrizioni ma ha lasciato fuori le due celle vuote.